Siamo al termine di Sorella Monda Ipag, Montecchio e Futura Volley Giovani Bustosizio, vince Montecchio 3-1, sentiamo le parole a caldo del libero Isabella Monaco. Sì, sono molto contenta di questa partita, siamo riuscite a esprimere bene il nostro gioco, poi il lavoro in palestra si sta vedendo, stiamo lavorando molto bene e adesso speriamo per la prossima partita montale fuori casa. Abbiamo visto un gran lavoro, muro e difesa, grandi difese da parte anche tue, quindi tutto sta procedendo per il meglio. Beh sì, ho sentito molto il sossegno della squadra che mi ha aiutato anche nei momenti di difficoltà e questo sicuramente ha aiutato a qualizzare la squadra nel gioco. Bene, ti ringraziamo, ti lasciamo andare a fare una bella doccia e complimenti ancora e buona Pasqua. Grazie, altrettanto e in bocca al lupo.